Noi l'avevamo conosciuta qualche mese fa in occasione della sua personale ospitata al Palaggio Fiorentino di Stia. La sua storia era già ben conosciuta e con essa anche la sua fama di giovane artista. Adesso Clara Wutz torna con una personale dal 4 al 14 di maggio al Circo L'Artistico di Arezzo. Clara ha 13 anni, non può parlare a causa di un ictus per i Natale, ma conosce tre lingue, italiano, inglese e portoghese. usa le dita per comunicare con il mondo e il pennello e i colori per esprimere i suoi stati d'animo. In occasione di questa sua decima personale l'artista presenterà oltre all'anteprima della collezione che è in lavorazione dedicata alla famiglia dei medici anche alcuni dei suoi ultimi dipinti. Clara sta costruendo il suo futuro a colpi di pennello nel corso dell'ultimo anno, ha esposto in Giappone, a Miami, a Milano, a Roma e in molte altre località italiane. Sarà ad Arezzo sabato 4 maggio quando alle 19.30 si terrà una cena di beneficenza i cui proventi saranno devoluti al finanziamento del progetto Motricità Inclusione Ricerca. La mostra rimarrà aperta al pubblico con ingresso libero fino al 14 di maggio.